Io in questo momento qui non parlerei tanto di ingresso dell'Ucraina nella Nato perché forse aspettiamo che le acque si calmino, che raggiungano un punto di accordo eccetera eccetera e questa è una mia impressione personale. Prima di arrivare a questo secondo me potrebbe essere uno step intermedio quello dell'Unione Europea che d'altronde non guasta e potrebbe essere un qualcosa che potrebbe anche soddisfare le richieste dell'Ucraina senza urtare suscettibilità in maniera abbastanza marcata della federazione anche nell'immediatezza di una soluzione che auspichiamo tutti avvenga. Io direi che sicuramente è un processo che non è detto. La Nato usa la politica delle porte aperte, però porte aperte con un certo numero di analisi, di step eccetera è una cosa che l'accelerazione che c'è stata per Finlandia e Svezia è stata abbastanza dettata dai tempi attuali però ecco quello che io non auspico è un'accelerazione in quell'area lì perché sicuramente non sarebbe a favore del consolidamento di un processo di pace che speriamo accada e inizia il più presto possibile. Quindi io la vedo in questa maniera qua. Balcani e Kosovo dobbiamo essere presenti? Sì, l'abbiamo dimostrato proprio venerdì scorso. È necessario che ci sia una presenza marcata come è sempre stato anche al di là delle critiche che a volte ci sono state in Kosovo di una presenza autorevole e operativamente valida come quella della Nato. Secondo me serve a garantire e con la giusta equidistanza un processo di normalizzazione dei rapporti fra le due entità. non è facile perché c'è una nuova entità statuale che è il Kosovo che ovviamente scalpita per avere riconoscimenti, per avere uno status completo di nazione che anche qui va fatto con tutti gli opportuni accorgimenti perché ci sia anche la possibilità di non urtare più di tanto anche la politica della Serbia. Credo che in questo senso qua il processo sia abbastanza lungo, ma ripeto, la nostra gente, la gente della Nato sta facendo un egregio lavoro lì, però per rispondere a questa domanda è necessario esserci stati, che ci siamo e starci ancora per parecchio tempo, secondo me.